Lucimar Ferreira da Silva, noto come Lucio, Brasilia, 8 maggio 1978, è un calciatore brasiliano, difensore dell'Inter. Con la nazionale brasiliana è stato campione del mondo nel 2002. Cresciuto nel Planaltina, cominciò la sua carriera professionistica nel 1997 con la piccola squadra del Guara. Nello stesso anno venne acquistato dall'Internacional, club dello stato di Rio Grande d'Ossul nel quale militò per tre stagioni totalizzando 51 presenze. Si trasferì in Europa nel 2000, per giocare con i tedeschi del Bayern Leverkusen. Nel 2002 disputò la finale della Champions League, siglando una rete, anche se il Bayern uscì sconfitto dal Real Madrid per 2-1. Durante la sua permanenza al Bayern mise a referto ben 15 gol in campionato. Nel maggio 2004 il Bayern Monaco lo acquistò per 12 milioni di euro, facendogli firmare un contratto triennale. Il trasferimento risultò effettivo dal 1 luglio dello stesso anno. Nel dicembre 2005 prolungò il suo contratto, che scadeva nel 2007, fino al 2010. Con la squadra bavarese ha conquistato tre campionati nazionali, altrettante coppe di Germania, e due coppe di Lega. In nove stagioni nella Bundesliga tedesca ha realizzato più di 20 reti. Il 16 luglio 2009 il Bayern ha annunciato che Lucio aveva deciso di annullare l'ultimo anno di contratto per trasferirsi all'Inter. Il 20 luglio 2009 l'Inter ne ha comunicato l'ingaggio con contratto triennale da 4,5 milioni di euro fino al 2012. I nerazzurri l'hanno pagato 5,3 milioni di euro. Segna la sua prima rete italiana contro il Napoli di testa su un calcio d'angolo, nella gara poi finita 3-1 per l'Inter. In Coppa Italia, trofeo poi vinto dalla stessa Inter, realizza la rete del momentanteo paregio nella partita contro la Juventus, finirà 2-1 per i nerazzurri. Il 16 maggio vince il secondo trofeo con la maglia dell'Inter, lo scudetto conquistato all'ultima giornata, sei giorni dopo la squadra si aggiudica anche la Champions League nella finale contro il Bayern Monaco, sua ex squadra. La stagione successiva si apre con la conquista della Supercoppa italiana ai danni della Roma e il trionfo nel mondiale per club, Lucio e la nazionale. Nel 2000 partecipò con la nazionale brasiliana ai giochi olimpici tenutisi a Sydney. Nel medesimo anno esordì in nazionale maggiore, due anni dopo fu difensore centrale titolare del Brasile, che vinse il campionato del mondo in Corea del Sud e Giappone, in quella rassegna il commissario tecnico Felipe Scolari lo tenne sempre in campo, insieme ai soli Marcos e Cafu, facendogli disputare per intero tutte e sette le partite, 630 minuti, ha giocato da titolare anche il campionato del mondo 2006, fino ai quarti di finale, quando il Brasile è stato sconfitto ed eliminato dalla Francia. Nell'agosto 2006 è stato insignito della fascia di capitano dal Neo City d'Unga, con la nazionale maggiore ha disputato le edizioni 2001, 2003, 2005 e 2009 della Confederations Cup, vincendo la Coppa nel 2005 e nel 2009, edizione in cui inoltre ha segnato il gol del 3-2 finale contro gli Stati Uniti.